ben ritrovati di nuovo su reviewing you vado a recensire insieme a voi uno zainetto comprato su amazon a verdoliva militare veramente carino adatto per escursioni per andare a scuola evitando ovviamente di mettere un peso troppo eccessivo di libri e adatto soprattutto per una gita fuori porta ma anche per un viaggio dove non si vuole diciamo portarsi dietro troppa roba andiamo a vederlo insieme allora vi lascio innanzitutto il link in descrizione di amazon qualora foste interessati a comprarlo la marca è questa qua me la faccio leggere arriva all'interno di un sacchetto di tela di nylon scusate allora guardate le fibie come sono fatte già un materiale che mi piace l'ho scelto anche per questo ma uno stile un po di quegli zainetti di una volta tela robusta cuciture ben fatte precise sul retro abbiamo preghiamo delle cinghie davanti stesso materiale e quindi queste sono cucite e poi a a sua volta posizionate qua gancetto per aprirlo sulla parte dietro sempre tela qua i ganci con un verde un po più diciamo oliva fa la regolazione qua cuciti facevo cadere la telecamera momenti comunque nella parte inferiore sempre lo stesso materiale tasche capietti carine abbiamo in totale una tasca con chiusura bottoni una tasca più piccola con chiusura a cerniera utile per mettere all'interno cartine portafogli o quello che volete caricatore un'altra carta scrittura una volta che si vuole inserire all'interno i vestiti libri o quello che è si va a chiudere tramite questa parte diciamo l'interno è marrone materiale qua c'è un filetto insomma niente di preoccupante e la chiusura appunto e con la cerniera una taschettina non troppo profonda per mettere qualcos'altro e poi all'interno è praticamente solo non ci sono altre tasche quindi è una tasca unica ad eccezione di questa parte qua in cui si possono mettere gli occhiali o qualcos'altro comunque una taschettina una parte a sinistra è utile secondo me anche per andare in montagna o comunque per fare delle passeggiate ed è abbastare relativamente leggero non troppo ingombrante se volete alcune misure le faccio vedere subito abbiamo una lunghezza dello zaino di circa 50 cm una larghezza di circa 38 cm poi le tasche sono 20 cm per un 18 mentre queste qua laterali sono più piccole ed arriviamo a circa 15 cm zenetto molto interessante a mio avviso di tela sull'etichetta non c'è scritto altro però vi dico anche che non sono gli unici colori disponibili ve le dico tra un secondo allora abbiamo come colore verde oliva nero abbiamo poi un marrone ero poi un marroncino diciamo più un marroncino tenente più al beige comunque trovate trovate tutti i colori al link in descrizione qui sotto se avete domande non esitate a pormele ci vediamo la prossima review